bella tutti ragazzi e benvenuti ad un nostro nuovo video io sono la pavi oggi amore mio dobbiamo dire a questi ragazzi che c'è una novità bella sugosa bella sugosa porca miseria porca chi ci ha seguito in live poco fa sicuramente l'ha già fatto ma per chi ancora non l'ha fatto deve sapere che oggi sabato 14 ottobre sono usciti due ieri che era il 13 oggi è uscito un altro codice due di fila comunque perché il video glielo ho fatto stamattina molto interessante rossita cosa ne pensi di questi due promo code per what then non ci devi trovare dentro niente nei forzieri pistola e anche se tu metti il promo code te lo dà come è scaduto e vabbè ma che c'è una cattiveria c'è c'è una cattiveria mi odio solamente tanto bene alla panni perché mi ha preso e mi ha cercato vabbè rosita dai però sei veramente veramente un infame sei rosita sei veramente un infame non si può eh rossita poche te l'ho già detto eh che devi comportarti meglio coxuder grazie ruby grazie allora ragazzi senza di andare a ciarlare e a squagliare un ho petato ho petato non mi sono neanche reso conto raga scusate scusate allora ragazzi intanto prima di andare bando alle ciance andiamo andiamo e ragazzi io adesso cliccate ragazzi mi raccomando sul tasto like quello che ho scritto lì che mettete un bel like grande 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 così ragazzi e iscrivetevi iscriveteci iscrivetevi al canale mi raccomando cliccate sul vostro numerino e poi sul codice promozionale esatto e andate ad inserire ragazzi aspetta che mi si apre la tastiera aspetta eh aspetta eh 3,2,1 via e via le banane dello zio frank perchè non si apre la tastierina ehi tastiera ti devi aprire ma porca suina ragazzi scusate non si apre la tastiera del telefono oh ferma 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 che si deve aprire adesso la tastiera ma che cazzo di problema c'ha no non me lo monetizzano che problema c'hai che problema c'hai ragazzi scusate non sto facendo apposta giuro è codice promozionale codice promozionale oh ma porca di quella porca di quella porca ve lo metto cos'è cos'è sciamanito sciamanito vediamo se funziona cioè funziona ragazzi mi prende in giro che è partita adesso la tastiera andiamo a fare invia codice vediamo un pochettino cosa succede e prot arrivano 5 sciamani no arrivano 5 sciamani l'ha presa in corner l'ha presa arrivano 5 luzzi ragazzi arrivano 5 sciamani qua il like solo per la fami che dice scusate sembra uno sciamano dalla foto è uno sciamano che fa la danza quello è uno sciamano con dei problemi nel senso il sciamano fa alla e alla e va bene quindi ragazzi abbiamo visto il codice funziona sciamanito vi ricordo di inserirlo quindi io vi ringrazio noi vi ringraziamo tantissimo per aver guardato questo video ignorante come al solito e ci vediamo prestissimo ciao